Ciao a tutti, come vanno? Allora, io parlo dal Brasile, io realizzo video parlando sul calcio africano su YouTube. Io so che ci sono molti italo-senegalesi, quindi io vorrei sapere se ci sono persone interessate in questo tipo di soggetto. Io parlo della Coppa Africana delle Nazioni, quindi fammi sapere e ci vediamo pronto!